Salve, in questo video faccio un breve riepilogo resoconto del dibattito diretto-indiretto che c'è stato tra me, Michele Boldrin e Adriano Palma sulla teoresi severiniana. Incomincio con il far notare che nessuno di loro ha posto una obiezione valida a queste teoresi. Entrambi hanno semplicemente cercato di screditarla, di liquidarla attraverso delle opinioni infondate e attraverso delle argomentazioni fallaci. Incominciamo da un ordine cronologico partendo proprio dalla diretta che ho avuto con Michele Boldrin. In quell'occasione vi sono state continue interruzioni e sono state esse a non permettere un'esposizione chiara, puntuale e precisa di questa teoresi. Già di base è difficile esporla in maniera sintetica e semplificata per farla conoscere e comprendere a chi non l'ha studiata. Figurarsi quando poi un dibattito teso a chiarire queste tesi è caratterizzato da continue interruzioni. Le continue interruzioni impediscono completamente una strutturazione articolata, lineare, ordinata delle argomentazioni le quali sono necessarie per chiarire dei concetti complessi. Non c'è modo di esporre dei concetti articolati e complessi senza delle argomentazioni ordinate ed è impossibile farlo con continue interruzioni. Ora, qualcuno ha creduto, ha pensato che le continue interruzioni fossero motivate dalla poca chiarezza espositiva che avevo avuto in quell'occasione. In realtà è il contrario, la poca chiarezza espositiva è stata determinata dalle continue interruzioni che poi possono essere sembrate ancora più in seguito giustificate da un circolo vizioso. Tra l'altro, spesso quelle interruzioni deraiavano il discorso in altre direzioni e quindi ancora di più risultava impossibile chiarire alcunché. Tutto quello che si veniva ad esporre non veniva mai approfondito perché continue interruzioni portavano sempre poi altrove. Ed è stato per questo che non c'è stata un'esposizione chiara. Quindi quella diretta di per sé non significa in alcun modo che la teoresi severiniana non sia chiara, non definisca bene i termini e le questioni di cui va a parlare. Tant'è che io poi auspicavo una diretta successiva impostata in modo completamente diverso e quindi in modo da poter strutturare un discorso lineare e poi confrontarsi nel merito delle questioni. Per quanto riguarda Adriano Palma ha posto poche obiezioni e tutte fallaci, tutte basate su fraintendimenti e incomprensioni di questa teoresi. Faccio un esempio. Ero intervenuto in una diretta nel canale di Michele Boldrini in cui era presente anche Adriano Palma e verso la fine della diretta Adriano Palma ha posto una specie di obiezione, di sillogismo alla teoresi severiniana, sostenendo che l'eternità di tutti gli enti fosse contraddetta dal fatto che Severino fosse morto. Quindi sottintendendo che la morte fosse l'annientamento dell'ente severino e che dunque la teoresi severiniana fosse stata falsificata in quanto essa sosteneva l'eternità di tutti gli enti, cosa che sembrerebbe incompatibile con la morte intesa come annientamento delle persone, quindi degli enti che sono anche persone. Al che ho fatto notare che l'eternità prospettata da Severino per gli enti non è la sempiternità, cioè l'essere sempre presenti nel tempo in ogni istante e che dunque tale teoresi non negasse in alcun modo il fatto che non in tutti i momenti tutti gli enti sono presenti, ma che essi e tutti i momenti in cui sono inclusi esistono sempre atemporalmente e quindi adottando questa forma che è quella corretta che si evince dal discorso di Severino non seguono le implicazioni che pensava di aver rilevato Adriano Palma. E poi vi è stata anche un'altra serie di obiezioni che poi ho confutato nei miei video e quindi vi invito a guardarli. In definitiva, quindi, il confronto filosofico diretto e indiretto sulle tessi severiniane ha come reso conto il fatto che quelle poche obiezioni che sono state portate avanti da loro in questa discussione sono state ampiamente confutate e da parte loro non c'è stata poi alcuna successiva replica. Quindi le cose stanno così. Limitarsi a screditare ancora, a ritenere il severinismo qualcosa di un'immondizia, una spazzatura, senza però porre una valida obiezione denota il fatto che le proprie critiche, le proprie opinioni critiche rispetto ad esse non hanno alcun fondamento, sono solo dettate da pregiudizi e da una mancata comprensione di quello che si intenderebbe screditare da parte loro.